Il palinsesto di Fano TV si arricchisce con una nuova programmazione in prima serata a partire da lunedì 3 agosto alle ore 21 per 10 puntate andrà in onda missione salute che quest'anno sarà tema covid. Il programma della rete televisiva è frutto di una collaborazione con il centro medico Arcadia di Fano che proprio da lunedì verrà affrontato il primo tema con il direttore di medicina interna dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Credo che sia obbligatorio parlare nella prima puntata di covid 19 questa malattia devastante vedremo quali sono stati i suoi aspetti durante la fase acuta tutte le problematiche che sono emerse e soprattutto quello che deve essere il nostro comportamento adesso che il virus non è scomparso però i segnali sono estremamente positivi. Quali saranno gli argomenti le tematiche per le prossime puntate? Nelle prossime puntate poi noi avremo diversi protagonisti avremo il medico dello sport che ci parlerà della ripresa dell'attività agonistica dandoci dei consigli sul come fare ci sarà poi il cardiologo che ci dirà che cosa è successo durante questa epidemia le implicazioni cardiache e anche qui quello che sono i comportamenti prudenti da avere in questa seconda fase ci sarà poi il pneumologo che parlerà dell'organo bersaglio di questa malattia che ha colpito in maniera pesantissima il polmone vedremo quelli che sono gli aspetti della fase acuta e quelli che sono gli aspetti che stanno emergendo nella fase successiva alla fase acuta. Missione Salute tutti lunedì alle ore 21 su Fano TV